ciao a tutti amici di android live.it questa è la prova di registrazione video con lo zopo zp 990 parliamo del fotocamera da 13 megapixel per frontale da 5 ma non avremo modo di vederla allora facciamo un attimo del scusate è un po complicato muoverlo perché è grande per fare il pinch to zoom è un po scattoso a dicevo per fare lo zoom bisogna fare per forza il pinch in o pinch out sullo schermo sul display quindi è poi inutile e fastidioso durante le riprese si possono scattare le foto questo video è registrato a 1080p credo a 30 frame per secondo perché non lo faceva selezionare facciamo un attimo una prova contro luci questa meravigliosa giornata di oggi girata destra girata sinistra beh cosa manca vediamo l'ho messo a fuoco bisogna più forte fare farla a mano per ora è tutto tra poco carichiamo anche l'accensione state pronti ciao alla prossima da android live.it